Anna Maria, accetti di svolgere il compito di Superiore Generale della Congregazione delle Figlie di San Paolo. Il decimo capitolo generale della Pia Società delle Figlie di San Paolo ha regolarmente eletto come Superiore Generale Sor Anna Maria Parenzano e dichiara che la medesima è legittimamente e canonicamente eletta per compiere tale ufficio. Sor Anna Maria Parenzano, giuro davanti a Dio di adempiere fedelmente l'Ufficio di Superiore Generale della Pia Società delle Figlie di San Paolo in conformità alle Costituzioni e di Vittorio della Medesima e di conservare il segreto su tutto ciò che concerne le lezioni anche dopo che si è chiuso il capitolo. Così Dio mi aiuti. Amen. Grazie. 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 Grazie.